Ecco Teddy, vede vede, pareggio, pareggio di Teddy Mata il nostro capitano, numero 11 che ha pareggiato, stavamo perdendo 1 a 0 per una disattenzione del nostro Alessio Ceroli Guido ha sbagliato Ah Guido, ecco correggo Guido, adesso pareggio di Teddy Mata, 1 a 1 E' ripreso la gara, ci troviamo nel primo tempo, risultato parziale 1 a 1 Ha pareggiato il nostro capitano Teddy Mata, numero 11, ha portato 1 a 1 in parità questa gara